Sono Lani Sadamato, sono di Barletta in provincia di Bari. Questo è il Magic 5 Pro. Siamo allo stand di Honor, oggi è il giorno della presentazione della nuova Magic 5 Series. Adesso vi faccio vedere una cosa perché la presentazione non è ancora finita, ma noi già ce lo abbiamo. E in questo video non solo vi parlerò dei telefoni, di tutte le presentazioni, delle caratteristiche tecniche eccetera, ma vi farò passare un po' di tempo con gli Honor Fan. E Honor quando porto i fan in queste fiere gli fa fare sempre delle esperienze molto particolari, quindi direi che la giornata è ancora molto lunga. Iniziamo. Come ti chiami? Antonio. Da dove vieni? Dalla provincia di Benevento. Perché sei qui, vedo che è la maglia Honor. Sì, sono un brand ambassador. Cosa ti ha spinto a diventare ambassador? La passione per la tecnologia, ma soprattutto una scommessa su questo brand che è rinato da alcuni anni. Tant'oste iniziando la presentazione ce ne dobbiamo andare. Andiamo. Andiamo. Nel frattempo si è unito alla spedizione il buon Guet che è riuscito ad arrivare a Barcellona. Come allora? Sei pronto per questa presentazione Honor? Sì, sì, prontissimo. Ti senti onorato di essere nella presentazione Honor? Moltissimo. Bene. L'importante è sentirsi Honorati. Dopo aver fatto un viaggio di 20 ore per me a Barcellona. Allora ogni tanto nel video guardate qui in basso perché noi abbiamo già il Magic 5 Pro e alcune clip le registrerò con quello smartphone. Adesso non posso ancora farlo vedere in realtà, però appena potrò, mi raccomando, così capite come registrare i video e poi vi farò vedere anche un po' come fotografo. Siamo entrati nella location, adesso vi spiego anche un po' come funzionano questi eventi. Iniziai da fra un pochino, nel frattempo ci hanno dato il pass e adesso vi faccio vedere qui dietro è tutta una zona pranzo. Noi possiamo pranzare e rilassarci prima del grande evento. L'evento sta per iniziare, adesso vi faccio vedere com'è l'ingresso nella location proprio del teatro. C'è tanta, tantissima gente. Adesso prendo posto, cerchiamo di intercettare i fan anche e dopo l'evento vi parlo dei telefoni e vi faccio scoprire un po' che vuol dire essere Honor Fan. La presentazione è finita ed eccolo qui, eccolo l'Honor Magic 5 Pro. Adesso lo facciamo anche vedere ai fan. Inizio a parlarvi del display, 6,81 pollici a 120 Hz, un PWM dimming di 2100 Hz se ricordo bene ed è un PWM dimming incredibile. Anteriormente la fotocamera è doppia, viene utilizzata anche per lo sblocco con il volto in 3D. La luminosità di picco è di 1800 nit ed è un display curvo che è fantastico, è stato premiato da Dixomark ed è al primo posto in classifica. Ma adesso torniamo allo stand del brand e cerchiamo di beccare i nostri amici fan. Adesso che il telefono possiamo toglierlo dalla tasca, iniziamo con qualche sample registrato proprio dal Magic 5 Pro. Questa è la fotocamera frontale, guardate che super grand'angolo che ha. La qualità a me sembra piuttosto buona. L'unico limite potrebbe essere un pochino il frame rate perché con l'anteriore si registra a 30 frame per secondo. Adesso però andiamo veramente allo stand. Siamo arrivati allo stand di Honor, che luce! Adesso cerchiamo un attimo i fan e gli chiediamo anche quali sono i programmi per la giornata. Oh, eccolo qua! Abbiamo ribeccato Antonio. Allora Antonio, dimmi un po', cosa ha tra le mani prima di tutto? Magic 5 Lite. Verranno dato oggi? Sì, inizia oggi anche il test di due giorni per la batteria. E infatti questo volevo chiedervi, cosa fate oggi voi fan? Allora, adesso una volta usciti qua c'è un tour in Barcellona dove andiamo un po' ad usare sia il Magic 5 Lite che il Magic 5 Pro. Ma per me, come per altri due ambassador, oggi inizia la live batteria. Vabbè, io quello già l'ho provato e ti posso dire che doro un bel po'. Ma prima di beccare gli altri fan vi parlo un secondo dell'hardware del dispositivo. Iniziamo con l'hardware, reanimato dal nuovo Qualcomm Snapdragon di seconda generazione. La RAM è di 12 GB, LPDDR5x, memoria interna UFS 4.0. Quindi si tratta delle nuove memorie interne molto più veloci rispetto alla generazione precedente che abbiamo visto però, diciamo, in tutti i nuovi top di gamma di quest'anno. Nel frattempo i fan, il fan per ora, hanno ricevuto questa borsa... Vediamo cosa c'è all'interno. Ok, un set di sticker. Delle spillettine di Honor. Guardate che bellina questa Honor MVC 2023. E questa spillettina con il pieghevole. E poi c'è questo che non si capisce che cos'è, però vabbè, ci piace. La batteria è una 5100 mAh che si ricarica velocemente a 66 Watt e che dovrebbe garantire, anche grazie al nuovo processore, un'autonomia molto interessante. È il tuo primo Mobile World Congress? Sì, assolutamente. Ed è bellissimo, è un'occasione unica per me. Come mai sei diventata Honor Fan? Prima mi sono descritta alla community, come utente, quindi come un fan qualunque. E mi piaceva la condivisione, quindi il scambiarsi consigli. E dopodiché sono diventata ambassador da due mesi a questa parte. Dimmi le tue prime impressioni, da... Allora, questo è il Magic 5 Pro. Ho già provato un po' la fotocamera ed è qualcosa di mai provato prima. Faremo un bel giro di un parcellona provandolo in tutte le modalità possibili. Le fotocamere sono tre e sono incastonate in un camera bump che, come vedete, cambia un pochino nel design. È tutto un po' più morbido. L'azienda dice che ha disegnato il camera bump seguendo la curva di Gaudì. E al suo interno troviamo una fotocamera principale, una fotocamera ultra-wide e uno zoom periscopico 3.5x che poi riesce a lavorare anche in modalità ibrida. Quello che mi piace molto è che la risoluzione di tutte e tre le fotocamere sia la stessa. Adesso però andremo in giro con i fan, faremo qualche test fotografico e vi faccio vedere anche qualche foto. Ok, siamo arrivati al primo stop del tour fotografico. Adesso andremo a vedere il mare. Guardate con chi sono immancabile. E proveremo proprio la fotocamera di questo Magic 5 Pro. Vi faccio vedere anche qualche scatto che fotografo, insomma, adesso. Diventare fan di Honor vuol dire entrare all'interno di una community, di una Honor Family, all'interno della quale ci si può scambiare opinioni. Siamo molto aperti e disponibili. Siamo un gruppo formato di persone che ha l'interesse di divulgare il brand Honor. Siamo molto attivi anche su più canali e quindi anche questo è un aspetto positivo per diventare fan. Basta mettere like Honor Italia su Facebook, su Instagram, seguire il gruppo ufficiale di Honor Italia su Facebook e anche quello sul Telegram. Allora, Anto, mentre andiamo a fare qualche altra foto, tu hai detto che state facendo tipo un test della batteria del Lite. Sì. Come si è messo? Allora, erano le 13 e un quarto quando l'ho acceso. Bene, bene. Con foto, video, un caricamento, l'ho attivato, un po' tutto. Sono le 5 e mezza e sono al 90%. Beh, niente, Maria, tu che dici? Mamma mia, magari tutti i giorni che sì. Siamo rientrati nel Pullman, stiamo andando nella seconda tappa di questo tour fotografico. Ok, comunque adesso fanno l'appello. Dicevo qualche fotina, l'avete vista? Ve ne metterò delle altre. Farò una bella carrellata di immagini e vi continuo a parlare. Oh, è tornata la luce, del dispositivo. Oh, è tornata la luce, del dispositivo. Nel frattempo il tour con i fan è finito. Honor li ha portati a cena in un ristorante a Barceloneta. Ma ora parliamo della cosa più importante, cioè il prezzo. Honor Magic 5 Pro avrà un prezzo global di 1199 euro. Non si sa in Italia se aumenterà o di quanto aumenterà. Tutte le altre informazioni, scheda tecnica, eccetera, le trovate nell'approfondimento testuale. Vi lascio il link in basso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.